Ciao portieri, ecco i nuovissimi Royce Prisma Pro G3 Fusion Evolution, modello realizzato in edizione limitata in vista dei prossimi mondiali russi. Il Palmo è il G3 Fusion che grazie alla sua mescola formata da tre diversi tipi di lattice, acqua, solid ed ultra soft, offre prestazioni eccezionali in ogni condizione atmosferica, ma anche una grande resistenza all'abbrasione. Il taglio è l'Evolution Cut con cuciture esterne e inserti irriattamente traspiranti tra le dita. Il lattice in questo taglio avvolge la punta delle dita aumentando la superficie a contatto con il pallone per una presa salda e un miglior controllo della palla. Il dorso è formato completamente da lattice e da materiale etleto e raspirante. Nella zona centrale troviamo il sistema ProFlex ideato per garantire una perfetta flessibilità e libertà di movimento. La chiusura è a velcro ed è formata da un lungo colsino asimmetrico per una vestibilità attillata e da un cinturino integrato nel guanto per una regolazione millimetrica. Questo modello, anche se ricco di tecnologia, è stato realizzato dalla Roche per i portieri chiamano un guanto tradizionale. Per chi come vedete ben vedere, a differenza di altri modelli presenti nella linea prisma, in questo guanto il palmo non si accende sul polsino e la zona dorsale è ricoperta completamente da lattice. La vestibilità è attillata, quindi vi consiglio di scegliere una mezza taglia più grande. Ulteriori informazioni sono disponibili giù nella descrizione. Mi do appuntamento al prossimo video, portieri. Ciao!